L'amministrazione a Corinti punta molto su una nuova gestione del verde pubblico in città ed in questo settore la parola d'ordine è rivoluzione culturale. Con questo auspicio oggi a Palazzo Zanca l'assessore all'ambiente e all'area d'urbano Daniele Ialacqua ha illustrato di concerto con il Dipartimento Cimiteri e Verde Pubblico, presente anche il primo cittadino, le iniziative e le attività previste per il concorso Messina in Fiore e per il progetto Messina Città Giardino. Il concorso promuove la realizzazione di composizioni floreali che arricchiscono i balconi, i davanzali, gli angoli fioriti di proprietà privata, oltre alle vetrine e i fronti di attività commerciali. L'obiettivo è coinvolgere la comunità locale per contribuire attivamente nella promozione del territorio, valorizzando in particolare gli spazi adottati, i balconi, le fioriere, i giardini, le aiuole, le vetrine e le scuole. Il concorso sarà gratuito ed aperto a tutti, comprese associazioni ed enti. I concorrenti potranno avvalersi di usufruire della collaborazione della consulenza dei negozi e vi vai aderente all'iniziativa. All'indirizzo Facebook Messina in Fiore è possibile scaricare il regolamento o la scheda di partecipazione, che dovrà essere compilata e fatta per venire all'ufficio protocollo di Palazzo Zanca, o mediante l'invio di una mail all'indirizzo messina in fiore 2014 chiocciola gmail.com. Messina dovrà tornare ad essere città giardino, come lo è stata in passato, prima della lottizzazione selvaggia del territorio. Questo l'appello del sindaco a Corinti, che invita i messinesi a diventare protagonisti del cambiamento.